Ciao da Absim! Avevate un minimo di curiosità su come mi avreste visto se con il maglioncino di Pep o la tuta di Maurizio Sarri? Ebbene, ovviamente considero ancora 100% Pep Guardiola, nuovo allenatore della Juventus. Lo voglio dire subito in apertura di video perché ieri è stata una giornata veramente pazzesca, con un susseguirsi di notizie, di ipotesi, di attese spasmodiche fino alla tarda serata e siamo andati un po' tutti a dormire con lo spettro, il fantasma di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Oggi praticamente tutti i giornali all'unisono, ma già ieri sera, titolano insistendo su Sarri, che sarà lui appunto il nuovo allenatore della Juventus, in virtù delle notizie che sono uscite ieri sera. Proviamo come sempre a fare un pochino di ordine, cerco di darvi la mia chiave di lettura per fornirvi in qualche modo degli strumenti di chiarimento, di chiarezza su questa vicenda, premesso che, molto probabilmente, tutto si sbloccherà da lunedì al massimo martedì. Quindi dobbiamo vivere con calma e con serenità questa giornata di sabato, che è una giornata molto importante perché c'è la finale di Champions e dobbiamo anche ascoltare quelle che saranno comunque le dichiarazioni post partita a caldo di Klopp e Pochettino. La giornata di domani, che è una giornata cuscinetto, possiamo riposarci, goderci un po' di sole, visto che finalmente siamo a giugno e inizia finalmente a far caldo. Infatti spero che questa diatriba allenatore finisca presto perché questa maglia potrebbe farmi sudare di qui a qualche altro giorno. E poi lunedì possiamo aspettarci grandi novità. Che cosa può succedere lunedì? Ci arriviamo dopo perché prima dobbiamo fare i passaggi intermedi che ci hanno portati qui stamattina, primo giugno, a parlare ancora una volta dell'allenatore della Juventus senza una vera e propria certezza. Anche se la mia personale convinzione che porto avanti da settimane, e lo sapete, in maniera incrollabile, è sempre quella. Sarà Pep Guardiola il nuovo allenatore della Juventus. Che cosa è successo ieri? Ieri era calendarizzato, e lo si sapeva, era stato riferito da varie fonti, l'incontro tra Sarri e la dirigenza del Chelsea. Lo stesso Sarri, mercoledì, all'esito della finale di Europa League, aveva detto parlerò innanzitutto con il Chelsea. Non devo prima parlare con il Chelsea, ma parlerò innanzitutto con il Chelsea. Cioè aveva annunciato che avrebbe parlato con il Chelsea. Ora, l'esito di questo incontro è stato praticamente comunicato a reti unificate. Cioè, se ci fate caso, tutti i vari giornali, Gazzetta, Sky, Di Marzio, quindi, anche Fabrizio Romano sempre per Sky Sport, Tutto Sport, cito solo alcuni, però, veramente tutte le principali testate sportive non fanno che riportare questo. Quasi pedisseguamente, quasi con le stesse parole, c'è solo una piccolissima differenza nel racconto dei fatti tra le varie testate. E cioè che Sarri, insieme al suo procuratore Fali Ramadani, non si capisce bene se Sarri personalmente, o anche insieme a Fali Ramadani, o solo Fali Ramadani, ha incontrato Marina Granovskaia. La plenipotenziaria del Chelsea di Roman Abramovic. C'è stato questo incontro, quindi, importantissimo, nel quale Sarri, o Fali Ramadani, non capiamo bene chi ha parlato direttamente, ha comunicato l'intenzione di andarsene. Quindi Sarri vuole uscire dal Chelsea, ha chiesto di essere liberato dal Chelsea per motivi personali e professionali, sfruttando anche la vittoria dell'Europa League, quindi se ne va da vincente. L'esito di questo incontro è che Sarri sarà libero a zero, quindi non ci saranno indennizi da pagare per la squadra che andrà ad offrire un contratto a Maurizio Sarri. E non solo, ma si riferisce che Sarri in questo incontro ha portato dalla sua parte la voce che ha un accordo con la Juventus. Ora, se questo accordo è un precontratto, come quello firmato da Guardiola con la Juventus, o un semplice accordo verbale, non è ben chiaro, ma Sarri è andato dalla dirigenza del Chelsea a dire io ho un accordo con la Juventus e quindi mi voglio liberare a zero perché ho già la squadra dove andare. Ma, vi prego di fare attenzione su questo, nessuno, nessuno, nessuno dei vari giornali che stanno parlando di Sarri ha scritto che Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus. C'è chi l'ha interpretato in maniera un po' più romanzata, c'è chi è rimasto più attinente ai fatti, ma nessuno ha scritto Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus. Hanno scritto tutti che c'è un'elevata probabilità, che molto probabilmente è lui, che c'è lui in pole position, ma oltre a fare ancora, forse in minor parte ormai, ma comunque i nomi di altri allenatori come piani secondari, nessuno è andato veramente a parlare di certezza. Non solo, ma c'è un passaggio chiave, che è che bisognerà aspettare i prossimi giorni. Il Chelsea ha chiesto di aspettare comunque qualche giorno per due motivi. Primo, trovare un sostituto. Secondo, soprattutto, la decisione finale spetterà al patron Abramovic. Quindi non è fatta, Sarri non è libero dal Chelsea, lo sarà molto probabilmente, ma hanno scritto tutti che la decisione finale spetterà ad Abramovic, che potrebbe opporsi, non sappiamo in virtù di cosa, ma potrebbe astrettamente farlo. Perché altrimenti che patron è se non può decidere su questo? Quindi dobbiamo aspettare, ma perché dobbiamo aspettare? Perché c'è bisogno di aspettare se la situazione è già definita? Se tutti i giornali sembrano voler dare Sarri come nuovo allenatore della Juventus, perché ieri non hanno scritto, oggi non hanno scritto e non scrivono sarà Sarri il nuovo allenatore della Juventus? Perché il Chelsea non ha emesso nessun comunicato ufficiale? Perché la Juventus non ha emesso nessun comunicato ufficiale? E perché la Juventus con Paratici ci ha detto, ci ha fatto capire che bisognerà aspettare la fine delle competizioni europee, quindi anche della finale di Champions e non solo della finale di Europa League? Vedete che c'è qualcosa che non torna. Dobbiamo a questo punto tornare al discorso delle parole di Paratici e della situazione UEFA, perché è lì che capiamo come andrà a finire questa vicenda. Però prima volevo fare un altro passaggio intermedio che è molto importante dal mio punto di vista. Io non sono giornalista, lo sapete, e d'altra parte non sto qui a darvi notizie, ma a commentarvi notizie e a darvi la mia opinione. Ed è quello che ho fatto da sempre, praticamente. Quindi non so, non posso sapere come si lavora nell'ambito del giornalismo, come si fa a fare i giornalisti. Però io ho un dubbio. Com'è possibile che tutti i giornali, tutti, ripeto, tutte le principali testate abbiano riportato alla stessa ora, alla stessa ora ieri, praticamente la stessa notizia, praticamente la stessa identica notizia? Cosa è successo? Fali Ramadani ha diramato un comunicato a tutti gli organi di stampa, a tutte le redazioni, ha fatto sapere, ha dato l'insiderata, diciamo, il retroscena di un incontro privato tra un professionista e una società di calcio a tutte e tutte le redazioni indistintamente all'unisono? Non so se è una cosa credibile. Ditemelo voi, magari qualcuno di voi è più esperto di questo, sa come si lavora in ambito giornalistico a questi livelli, però a me pare un po' strano, capite? Che non ci sia stato nessuno, tra l'altro, che prima di ieri sera avesse scritto Sarri si libererà dal Chelsea, perché invece c'erano notizie contrastanti provenienti dall'Inghilterra, dove scrivevano che invece Sarri avrebbe chiesto di restare al Chelsea, voleva rimanere. Ma comunque nessuno nella giornata di ieri, 31 maggio, prima della serata si era spinto a dire non vi preoccupate perché questo incontro finirà che Sarri chiederà di andarsene dal Chelsea e se ne andrà e andrà alla Juventus. C'erano state solo delle ipotesi, ma ieri, se ci avete fatto caso, è stata una giornata molto silenziosa sui giornali, fronte allenatori della Juventus, molto silenziosa. Tutti si erano tirati indietro perché stavano aspettando giustamente questo incontro di Sarri con il Chelsea, però poi, ripeto, c'è un passaggio che a me manca. Come fai, senza averlo mai detto prima, ad arrivare a dire Sarri sei liberato con il Chelsea perché ha l'accordo con la Juventus? Ma questo accordo con la Juventus, quando era stato esplicitato? Perché qualcuno l'aveva scritto, ma pochi, e in maniera poco convincente. E allora dobbiamo tornare inevitabilmente a quello che dice Luca Momblano. Non perché Luca Momblano è una divinità, non perché Luca Momblano non può sbagliare, non perché Luca Momblano è l'unica persona credibile, ma è l'unica persona, e lo dico da settimane, è l'unico giornalista che ha detto una cosa e la sta confermando giorno, dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno. Mantenendo fede alla sua interpretazione, alla sua ricostruzione e alle notizie che ha avuto mesi fa, rispetto alle quali sta trovando riscontri e ci sta offrendo conferme. E proprio ieri sera Momblano non ha, non ha fatto dietro front, non si è rimangiato la parola, perché molti di voi hanno interpretato questo ascoltando Momblano su Top Calcio. Io ero in diretta qui con voi, l'avete visto, mi avete visto, anche abbastanza in preda all'adrenalina, attratti nel panico perché non sapevo cosa sarebbe successo ieri sera, ho fatto la diretta della diretta. Momblano non ha assolutamente ritrattato su Guardiola. Che cosa ha detto Momblano ieri al Top Calcio? Facciamo questo passaggio e poi arriviamo a definire che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni. Momblano ha detto che Guardiola ha un accordo, ha un precontratto non vincolante con la Juventus. Ora, su questo non vincolante, mi pregherò di fare attenzione, il precontratto deve, deve essere non vincolante, non può essere vincolante, perché se il precontratto fosse vincolante sarebbe illegale perché andrebbe ad intaccare, andrebbe a violare il vincolo che c'è tra, in questo caso, Guardiola e il Manchester City, cioè andrebbe a violare il contratto in essere tra l'allenatore e la sua squadra. Non può essere vincolante, deve necessariamente essere un precontratto scritto per una questione di tutela delle parti, ma comunque revocabile, modificabile. Quindi questo precontratto c'è e non è cambiato nulla da questo punto di vista. Ha detto Momblano che lui sa per certo, sa per certo, qui siamo sulla certezza, cioè Momblano ha dato la certezza, ed è un giornalista professionista, ha dato la certezza in trasmissione su Top Calcio, qui su YouTube, ne ha parlato in termini di certezza, che nel contratto di Pep Guardiola non c'è una clausola che consenta all'allenatore di liberarsi in caso di sanzioni amministrative subite dal Manchester City. Ma c'è una clausola e le ha parlato in termini di certezza Luca Momblano e questo non ce l'ha riferito nessun altro, nessun altro, e né ci sono smentite, né ci sono smentite sul punto. Anzi, l'avvocato Alberto Calassi venerdì scorso, giovedì scorso, non ricordo bene, la settimana scorsa, membro del CDA del Manchester City a Sky Sport a domanda, ma c'è la clausola, non ha risposto. Questa clausola di Gimomblano è formulata in questo modo, che Guardiola può liberarsi e il Manchester City può liberare Guardiola in caso di mancata partecipazione alla Champions League. Quindi non è un discorso di sanzioni amministrative, è un discorso di City fuori dalla Champions. Qualunque ne sia la causa, con il City fuori dalla Champions, Guardiola può liberarsi e il City può liberare Guardiola. Clausola ambivalente perché vale per Guardiola per consentirgli di allenare in Champions, ma vale per il City per consentire di liberarsi di Guardiola se Guardiola non fa bene il suo lavoro e non porta il City in Champions. Guardiola, il City in Champions, ce l'ha portato, ma la sentenza che per Momblano è già stata adottata, la pronuncia è già stata fatta, ha detto Momblano, la pronuncia è già stata fatta, la sentenza della UEFA dice Momblano che ci sono elevatissimissime probabilità che comporterà l'esclusione del Manchester City per due anni dalla Champions League, dalla stagione 2019-2020. Quindi il City sarà fuori per i prossimi due anni, a partire da adesso, da questi prossimi mesi, dalla Champions League. Per fatti del 2014, quali sono i fatti? Sponsorizzazioni fittizie presunte, cioè lo sponsor del Manchester City in realtà non ha pagato soldi al Manchester City per farsi sponsorizzare, ma i soldi provenivano direttamente dalla proprietà del Manchester City tramite un giro di soldi. Una cosa fortemente osteggiata dalla UEFA che porta a delle sanzioni pesanti. fatti del 2014, se le cose sono state ripetute anche nel 2015, nel 2016, nel 2017, capite che il City in Champions non ci andrà più e allora Guardiola non solo ha la possibilità, ma ha il dovere con se stesso di liberarsi dal Manchester City perché sa che non vedrà più la Champions di qui a diversi anni, al di là dei vari ricorsi che sono stati fatti. Quindi capite che questa sentenza è fondamentale, ma quando deve arrivare questa sentenza? Era credibile, era pensabile che arrivasse a una sentenza di questo tenore prima della finale di Europa League o tra la finale di Europa League e quella di Champions? Insomma, prima dello svolgimento e della conclusione delle finali europee? Sicuramente no, perché la UEFA sta in questo momento vendendo i suoi migliori prodotti, le finali. La finale di Champions è un bacino di soldi pazzesco, indescrivibile. Non esiste che il giorno prima, cioè ieri venerdì, la UEFA se ne esce con un comunicato che attrae su di sé tutta l'attenzione, distogliendo dalla finale, perché inevitabilmente oggi tutti i giornali a livello internazionale avrebbero titolato City fuori dalla Champions e nel frattempo si deve giocare la partita tra Tottenham e Liverpool. Sarebbe stato un autogol clamoroso da parte della UEFA. Vi aggiungo un altro dettaglio, anche il Milan sta aspettando la sentenza UEFA sul fair play finanziario, quindi abbiamo la conferma che questa sentenza deve ancora arrivare. Arriverà. Il Manchester City quando è stato deferito? È stato deferito il 16 maggio, ufficialmente. Quanto tempo ci vuole, secondo voi, a prendere una decisione su fatti documentali rispetto ai quali la cognizione della UEFA è già piena nel momento stesso in cui deferiscono alla società? Cioè, la UEFA già sa quello che è successo. Con il deferimento non c'è un discorso di andare a fare delle indagini, delle verifiche, è tutto documentale. C'è soltanto da ascoltare la parte interessata, il Manchester City, e probabilmente è stato ascoltato. Non sappiamo noi quando, come e perché è stato ascoltato. Quindi siamo prossimi alla sentenza. La sentenza potrebbe uscire lunedì, potrebbe uscire martedì. Nel momento in cui esce la sentenza si sblocca tutto perché da quel momento il Manchester City è abilitato, ha il diritto di emettere il comunicato ed è tenuto anzi ad emettere il comunicato ufficiale in cui saluta Pep Guardiola come suo allenatore e dopo questo ulteriore passaggio come terzo passaggio può arrivare il comunicato ufficiale della Juventus che annuncia Pep Guardiola come suo nuovo allenatore. Ma voi mi dite com'è possibile allora che nel frattempo stanno parlando tutti di Sarri? Ve lo sto dicendo. In questo momento nessuno ha detto che Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Sarebbe, forse, hanno usato tutto il condizionale ma c'è questo passaggio chiave che deve decidere Abramovic che bisogna aspettare alcuni giorni. Perché? Perché evidentemente questa è la clausola di uscita è l'uscita di sicurezza da tutta questa situazione perché dopo nessuno farà una brutta figura perché potranno dire noi abbiamo scritto Sarri perché in quel momento sembrava effettivamente che la Juventus avesse trattato Sarri stesse trattando Sarri e Sarri si fosse liberato dal Chelsea per andare alla Juventus. Poi e noi non potevamo saperlo il City è stato tirato fuori dalla Champions League magari Abramovic ha deciso di tenere Sarri oppure a quel punto Sarri ha trovato un accordo migliore con il Manchester City e Guardiola va alla Juve. Questi passaggi io ve li do per assolutamente incerti perché non lo so come si sposteranno le caselle non so chi sarà il prossimo allenatore del Manchester City io dico potrebbe essere Sarri anche se dice che vuole tornare in Italia ma potrebbe essere Pocettino e potremmo capirne qualcosa di più stasera. Però capite che l'incastro è perfetto l'incastro è perfetto nel senso che sarà Guardiola il prossimo allenatore della Juventus controllo al volo se tra gli appunti che avevo annotato c'è qualcosa che non vi ho detto per il momento il discorso del 15 giugno sì il discorso del 15 giugno che ha detto Monblano che la clausola esercitabile da parte di Guardiola per liberarsi dal Manchester City vale solo fino al 15 giugno quindi la deadline è quella ma abbiamo ben due settimane quanto ci vuole ripeto per adottare una decisione da parte della UEFA che in realtà è stata già presa ma attenzione perché è stata già presa e non è stata comunicata per lo stesso motivo che vi stavo dicendo perché non poteva sarebbe stato un clamoroso autocall da parte della UEFA a livello comunicativo a livello di immagine far uscire una notizia del genere con le finali ancora da giocarsi e quindi dobbiamo semplicemente mettere in punto ma riecheggiano in questo momento le parole di Paratici di domenica scorsa non è corretto non sarebbe corretto uscire da questa situazione prima della fine della stagione e di tutte le finali prima che si siano disputate le finali europee ha parlato quasi di rispetto ma nei confronti di chi nei confronti di chi devi avere rispetto nell'annunciare il tuo nuovo allenatore perché Spalletti è stato esonerato Conte è stato annunciato prima delle finali Gattuso è stato esonerato Gasperini è stato confermato qual è il problema allora perché la Juventus che ha esonerato Allegri il 17 di maggio non può ancora annunciare il suo nuovo allenatore c'è il discorso probabilmente dicevo del nuovo allenatore del City che potrebbe essere uno tra Pocettino a questo punto anche Sarri ma soprattutto c'è una questione di rispetto nei confronti dell'ambiente UEFA a questo punto perché bisogna consentire prima alla UEFA di fare il passaggio intermedio della sentenza al City di recepirlo e la Juventus a quel punto potrà sprigionare la sua energia annunciando Pep Guardiola nuovo allenatore della Juventus io guardate a questo punto non so se vi ho detto tutto quello che avrei voluto dirvi per chiarirvi questa situazione vi dico semplicemente che bisogna aspettare poi voglio dire anche un'altra cosa ovviamente io non sono un venditore di favole di sogni io sto qui a dirvi sempre e comunque quello che penso e quello che ritengo sia vero non c'è stato un solo minuto nella mia vita qui davanti a voi in cui vi ho detto una cosa che secondo me era falsa tanto per dirvela o una cosa che non pensassi state sereni su questo quindi se dovesse saltare l'ipotesi Guardiola alla Juventus sono il primo tra virgolette a rimanerci male e a pagarne le conseguenze ma non sarà così cioè io non sto facendo un gioco con voi per un discorso di visibilità perché vi piace l'idea Guardiola alla Juventus e non vi piace l'idea Sarri perché vi dico e ve l'ho già detto che io sono sereno comunque dovesse essere Sarri dovesse essere stato Sarri il nuovo allenatore della Juventus a me sarebbe andato bene lo stesso perché credo che sia un bravo allenatore lo sta dimostrando e farebbe alla Juventus grandi cose ovviamente la Juventus di Guardiola è mille volte meglio della Juventus di Sarri ma possiamo comunque accontentarci forse un ultimo un ultimo riferimento volevo farlo sì va fatto ai volumi della borsa di ieri il titolo della Juventus che ha subito ancora fortissime oscillazioni fortissima attenzione da parte degli investitori perché altra domanda interessante perché se l'incontro con Sarri non c'era ancora stato anzi in realtà devo dire un altro paio di cose perdonatemi perché se l'incontro con Sarri non c'era ancora stato e non se ne sapeva il contenuto anzi in Inghilterra dicevano che Sarri avrebbe chiesto di restare al Chelsea gli investitori e non parliamo di investitori così semplici speculatori ma di investitori istituzionali grossi investitori hanno iniziato ad attenzionare fortemente il titolo della Juventus nella giornata di ieri fino alla chiusura non è che c'è forse qualche altra voce che circola e infatti si riferisce riportano alcune fonti giornalistiche anche italiane che mi sembra forse il Sole 24 Ore che nella City a Londra si vocifera che sia anzi è proprio il Sole 24 Ore che sia Guardiola il nuovo allenatore della Juventus e che la Juventus sta studiando un'operazione simile a quella con Cristiano Ronaldo tramite lo sponsor ci sarà l'Adidas soprattutto che siccome la Puma sta cercando di ottenere un contratto di far firmare un contratto a Guardiola di praticamente trasformare Guardiola nel suo uomo immagine ma non ha ancora un accordo la Puma con Guardiola vuole intromettersi l'Adidas trasformando Guardiola in un suo uomo immagine l'Adidas dopo un contratto che è stato rinnovato con la Juventus al rialzo con tantissimi milioni nei mesi scorsi quindi Juventus squadra di riferimento dell'Adidas Guardiola potrebbe diventare l'uomo di riferimento dell'Adidas alla Juventus e quindi l'operazione sarebbe fattibilissima sostenuta anche dagli sponsor e questo giustificherebbe due cose le voci di alcuni giornalisti che non fanno giornalismo calcistico ve ne ho parlato ieri Gramellini cioè Scarcella e soprattutto gli investimenti in borsa perché dietro questo rialzo del titolo in borsa della Juventus c'è inevitabilmente una conoscenza diretta delle fonti e dei fatti da parte di grosse aziende che sono probabilmente gli sponsor e tutte le aziende collegate quindi ragazzi io non so che dirvi questi sono tutti gli indizi io veramente ne ho ne ho una quantità industriale continuo ad essere convinto che non sarà Sarri l'allenatore della Juventus ripeto anche per una questione di tempistica perché questo avrebbe significato che la Juventus aveva aspettato ha resonerato Allegri il 17 maggio decidendolo almeno due settimane prima quindi a inizio maggio per poi aspettare fine maggio l'eventualità che Sarri si fosse liberato dal si sarebbe liberato dal Chelsea aspettando poi la Mercedes Abramovic che tra qualche giorno fa sapere se è d'accordo veramente veramente non 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 credibile mi rifiuto di credere una cosa del genere grazie per essere stati in compagnia in mia compagnia per tutti questi minuti perdonatemi davvero per questa lunghezza eccessiva grazie per le vostre considerazioni nei commenti qui sotto vi ricordo di passare sul mio sito avsim.video linkato in descrizione per parlare con me in privato e chattare in descrizione trovate anche tutti i link per seguirmi sui social mi raccomando seguitemi su Instagram non dimenticate di mettere like a questo video se vi è piaciuto e vi è risultato utile e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivando anche la campanella per ricevere le notifiche su tutto quello che farò su questo canale di qui in avanti e sempre forza Juve grazie a tutti